Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito che ci è stato fatto. Sia per me in questo momento che sulle piste da sci con tutto il nostro gruppo sportivo e i nostri allenatori. Ti ringrazio, grazie a te per aver accettato l'invito. L'hai anticipato, piste di Livigno, siete in raduno. La stagione, lo premettiamo, deve ancora incominciare, ma ormai è alle porte. Una stagione che si prefigge quella del rientro in Coppa del Mondo e nazionale, Stefano, per te? Ma speriamo di un altro salto di qualità che sono riuscito a fare l'anno scorso e poi vediamo dove mi porterà questo. L'anno scorso per me è stato un anno ricco di soddisfazioni che mi ha portato anche a gareggiare con la squadra nazionale a diversi competizioni a livello mondiale e spero di continuare su questa via anche quest'anno. Il lavoro è stato fatto quest'estate, ma nel migliore dei modi. E niente, adesso tocca a noi esprimerlo e cercare almeno di esprimerlo al 100% e sentire di aver dato tutto per sé, almeno a fine competizione. Certo, non c'è cosa peggiore che avere il rammarico a termine di una gara sulla prestazione che si è avuta. Prima però di passare al presente, anticipo, sei venuto ovviamente con la tua divisa societaria, l'ACS Carabinieri, quindi accennavamo appunto agli allenamenti quali vigno con il gruppo, ma prima però di passare all'attualità, facciamo un passo indietro. Come è cominciato con lo sci di fondo? Come è cominciato con lo sport, Stefano? Ma io, abitando anche a pochi metri dalle piste da fondo di lago di Tesero, ho iniziato da bimbo, avrò avuto, non so, 3-4 anni magari a provare ad andare con mio nonno che lui non sciava, però mi accompagnava. Io andavo e provavo ad andare anche solo davanti a casa, un po' con le sci, finché non sono stato iscritto dai miei ai normalissimi comuni corsi da sci e pian piano, magari anche la fortuna di trovare un gruppo di amici prima, fino a una certa età e poi anche di colleghi, insomma di un buon livello, mi ha aiutato ad arrivare fin qua. Però comunque è iniziata come una prova, come tante altre cose, perché da piccolo ne ho provate di molti tipi, abbandonando prima o poi una o l'altra e poi quello che ha prevalso è stato lo sci di fondo. Quindi sci alpino, forse salto, abitando in Valdipierne? No, io ho provato il nuoto, che non è durato molto, il tennis qualcosa, il calcio è durato molto, fino agli ultimi anni quando ho dovuto decidere o l'una o l'altra cosa. Certo. E poi sempre anche la corsa durante l'estate, che era sì usata come metodo di allenamento per l'inverno, ma a me è sempre piaciuta e anche quando posso ogni tanto gareggio e faccio qualche gara di corsa in montagna. Beh, assolutamente. Parliamo poi di questo capitolo, anche perché recentemente quest'estate hai vinto anche gare prestigiose. Ma ritorniamo di nuovo a quando eri più piccino. Sei cresciuto tra le fila dell'Unione Sportiva a Cornacci, se non ricordo male. Del mio paese, che tengo anche a ringraziare perché ci ha sempre sostenuti, prima, dopo e ancora ora. E saluto anche i miei allenatori, se potranno vedere. Certo. In primis Mario Longo, Sergio Longo e poi il nostro allenatore del comitato, Mario Varesco, che è l'ultima spinta verso il professionismo. Certo, assolutamente. Che ricordi hai di queste gare nella società, nel club? Andavamo, però tanto faceva anche il pre e il dopo gara per trovarsi magari anche a giocare a calcio. Se c'era poca neve giocavamo a calcio, poi ricevendo anche dei… facendo arrabbiare i nostri allenatori perché non volevano. Però noi era molto un, almeno per me, un trovarsi assieme, divertirsi. Comunque c'era la gara, però non era poi così il punto principale della giornata, far la gara. Far la gara, però magari come un topolino era bello perché andavi e ci riempivamo di gadget. Poi c'era tipo una giostra, era molto incentrato sul divertimento fino a una certa età. Poi ha prevalso l'agonismo e, insomma, si guardava più risultati prima a livello regionale, qualificazioni per italiani e sempre più oltre. Eri uno già forte da piccolino, oppure no? No, da piccolo ero scarso. Però era una gran passione quella che ti ha portato fino a qua, insomma. Sì. Perché non hai mai mollato. No, no, un anno mi ricordo che il primo anno che mi ero qualificato per gli italiani ragazzi, penso, allievi. Mi ero rotto il polso tre settimane prima e mi veniva a piangere. Ho tolto il gesso, mi sa, quattro giorni prima di partire. Ero andato e ero arrivato, penso, forse ne avrò avuti dieci dietro. Quindi tipo centoventesimo. Eh, sì. Comunque, sì, la grande passione. Erano quei primi traguardi, quelle qualificazioni agli italiani, che per un giovane, insomma, sono i piccoli traguardi da raggiungere. Perché la vita sportiva si raggiunge step by step. Esatto. Era già un mondo che si apriva dalle solite garette che puoi fare in regione. Certo. Inizialmente già spostarsi quasi fuori regione sembrava di aver raggiunto chissà quale obiettivo, chissà quale traguardo. Certo. Qualche aneddoto di qualche trasferta, non lo so, non ci hai dimenticato come è già successo a qualcuno dei tuoi colleghi. Qualche cosa di simpatica, non ti viene in mente nulla. Ma io sono un po' un disastro su quelle cose là. Ci sono tipo delle canottiere in Germania, un premio gara in tracque, in un ristorante, calzini. Su quel lato là devo dire... Bene, poi il calce credo che è. Eh? Le calze partono e quasi ma ritornano a casa. No, sono un po', come dice mia amorosa, un po' disordinato, ma alle volte sì, non mi dimentico ben qualche cosa in giro. Ci sta. Ancora adesso. Proseguiamo con la tua carriera fino alla tua prima convocazione in azzurro, magari da junior. No, io sono stato convocato per la prima volta da... ero già senior. Nel 2016 mi sembra, a Ribinsk in Russia. Perché avendo conquistato il terzo posto a una 15 schettini in Coppa Europa, mi avevano portato a correre una 15 schettini e una Pursuit a Ribinsk. Era, mi sembra, gennaio-febbraio del 2016. Ah, ok. Quindi, sì, debutto in Coppa del Mondo. Esatto. Come te lo ricordi? Come l'hai vissuto? Fredo. Fredo? A Ribinsk diretti. Sì, era un freddo. Eravamo io e Simone Urbani, qui di Livigno. Certo. che cantava sotto i piedi. Certo. Perché poi il regolamento della FIS prevederebbe che al di sopra determinate temperature non si potrebbe correre. Ma effettivamente in qualche località tipo la Russia ogni tanto si taroccano i termometri. Anche i tempi mondiali under 23 in Turchia non erano sicuramente meno 18, erano di più, però... Stringi i denti e si corre. Hai parlato della neve che suona, insomma, quando la neve è talmente fredda, scricchiola sotto gli sci. Eh, sì, si sente quel rumore che... sì, è bello perché significa inverno, però non è tanto bello durante gara perché è molto più... Gessosa, forse. Esatto, più aggressiva e lo sci scorre meno e si fa un po' più di fatica, però... Però la fatica fa parte della DNA, soprattutto di un fondista. Sì. Una fatica che ti accompagna, come dicevamo prima, anche durante l'estate. Ovviamente alla base della preparazione delle luci di fondo c'è la corsa, la corsa in montagna e te però sei anche uno specialista. Ma, più che specialista, è una pecca mia che mi piace anche fare queste cose. Ed anche noi, essendo allenati tutto l'anno, non è che ci manca fiato, motore o altro. E quindi ogni tanto, anche senza programmare, solo durante l'estate, visto che tanto ogni allenamento è buono o no, però ogni tanto non fa neanche male una tirata che sia una gara rispetto a solo un allenamento, perché secondo me anche in gara tiri fuori magari quel po' di più, anche di grinta, perché è sempre competizione. Poi c'è chi la pensa magari anche in altro modo, che non va bene fare tante gare l'estate, però qualcuna secondo me non fa assolutamente male. Essendo allenati l'inverno si corre ogni domenica, sabato, non vedo problema per qualche gara ogni tanto. Certo, poi indossare il fettorale è comunque per voi adrenalina, quindi è proprio un piacere. È bello, lo cerchi quasi, cioè io in prima persona non riuscirei a fare mesi e mesi senza non fare alcuna gara, perché ormai dopo tutti questi anni siamo allenati anche per quello, si cerca la competizione, da una parte o dall'altra. E poi, che se ne dica, comunque indossare il fettorale è sempre una sinonimo di banco di prova. Insomma, un allenamento può essere tirato finché si vuole, ma mai come quello che succede poi in gara. No, quello magari c'è chi riesce a arrivarci molto vicino, però magari in gara qualcosa di più riesce a dare. Poi è anche bello correre qualche gara del paese, come organizzata dalla società, anche per, non so, per ringraziarla o per anche loro, fa piacere, anche se come qua, che c'è il palio delle contrade, la noi ci sono le corte del tieser che sono in giro di corsa nel paese. È anche bello correre ogni tanto per simpatia e per… Per ringraziare anche perché… Sì, e per stare un po' assieme, per far due risate. Assolutamente. Una stagione che non finisce mai, nel senso ti alleni praticamente sempre, 12 mesi all'anno, con pochissimo tempo di riposo. Ah beh, sì, il nostro lavoro è quindi quello si fa come un panettiere, lavora tutto l'anno, anche noi, sei sempre allenato, magari in momenti non hai un programma ben definito, come può essere l'aprile, inizio maggio, però comunque qualcosa si fa sempre. A fine stagione però un paio di settimane di vacanza te le prendi? No. Zero? Non stacanoviso, sei proprio un panettiere. No, magari qualche giorno, una settimana forse, però magari vai a correre o vai con le pelli, però già quello, scaricare la testa dal lato magari, gara, programma, un giorno ti alzi e vai con le pelli, un giorno hai voglia andare a correre o vai a correre, un giorno sei stanco, riposi, un giorno hai da far legna a casa e già riposo mentale, secondo me è quasi migliore che imporsi due settimane di stop completo. Mare, vacanze, niente. Sì, quello l'anno scorso, no quest'anno sono andato dopo molti anni e ogni tanto serve anche quello. E beh, anche perché insomma un po' di mare fa sempre bene, comunque credo tu sia un grande appassionato di montagna comunque. Sì, sì andare a camminare anche semplicemente a farmi un giro, a me piace anche andare a una macchina fotografica e fare qualche foto, una passione che mi è stata un po' passata da mio papà perché una volta andava, poi provando un po' mi piaceva, poi non ci avevo più dato molto interesse e negli ultimi 6-7 anni ho comprato una macchina, un obiettivo e ogni tanto quando ho un po' di tempo libero magari prendo il mio cane e vado a farmi un giro così. Che bello, bene, bella passione. Una val di Fiemme che è stata snaturata purtroppo dopo quella troce notte di vento dello scorso ottobre del 2018. Che effetto ti fa Stefano ogni tanto, se tu mi riesci a camminare e fai anche fotografie e rivedere queste sterminate, queste piante sradicate, abbattute, questi boschi così ormai privi di piante, che effetto ti fa tu che sei nato lì? In primo momento sicuramente è un nodo qua in gola perché è un cambiamento insomma drastico da prima che era tutto un bosco folto a vedere questa desolazione, però dall'altro lato è anche la natura che alle volte fa il soccorso, fa il soccorso non è che chiede permesso a noi, noi abbiamo chiesto permesso per costruire strade e case, quindi è brutto perché anche adesso che sta continuando a piovere come nel Veneto, come da noi, è brutto per chiunque, per le famiglie che devono abbandonare le case, per anche gli abitanti del Martello che hanno avuto la Slavina ieri mattina, però vi siete comunque dimostrati un popolo ricco di valori e anche uniti da una fratellanza non da poco? Sì, sono riusciti abbastanza velocemente a ripristinare sia linee elettriche, telefoniche che anche io vedendo a casa sia pompieri che anche semplici volontari hanno lavorato per rimettere a posto sia strade, sentieri anche sopra Tesero, hanno lavorato parecchio anche questa primavera per consentire alle persone di ritrovare quella valle di fieme che era nonostante questa perturbazione così violenta dell'anno scorso. Come l'hai vissuta Stefano tu quella notte tremenda, denominata poi vaia del 29 ottobre 2018? Eri a casa innanzitutto? No, io ero a Oberhof in raduno con il gruppo sportivo dei Carabinieri e non essendo là comunque ero spaventato anche per i miei, per la mia ragazza perché non si riusciva quasi più a avere notizie visto che linee telefoniche erano andate, corrente ce n'era quasi nulla in valle, forse in qualche punto ancora era arrestata e insomma non si sa mai come era la faccenda, però per fortuna poi il giorno dopo tutto insomma, non è che era andato bene però il giorno dopo ho avuto notizie e mi hanno detto che c'è stata questa grande tromba d'aria che da noi in paese a Tesero ha colpito poco, più verso Ziano, Predazzo, perso dalla Z e poi i giorni seguenti tornando a casa ho visto ciò che era successo. Mai però ti saresti immaginato di vedere una desolazione del genere presumo, lo dico perché ci sono stata io recentemente e quando l'ho visto sono rimasto veramente senza parole. No, perché era già capitato altri anni di qualche tromba d'aria, però erano degli appestamenti molto più limitati rispetto ad ora, si resta un po', si resta scioccati sicuramente a vedere questo cambiamento. Cioè a dire che però non c'è stata nessuna vittima, quindi secondo me la natura ha voluto fare il suo corso senza miettere vittime appunto e questo magari... Ovunque, pensare a tutte le strade, tutti i passi coinvolti, non c'è stato niente, è stata proprio una fortuna. Assolutamente. Torniamo alla tua carriera agonistica. Lo scorso anno hai partecipato ai mondiali di Sephild. Era il tuo primo mondiale per te? Sì, era il mio primo mondiale senior. È stata una bellissima per me soddisfazione riuscire a raggiungere il mondiale. Poi da là, essendo là, ho provato a dare il mio meglio nelle due carri che ho corso, la 50 e la Schiatlon, 15 più 15, e devo dire che sono anche abbastanza soddisfatto. Certo. Poi in una sono arrivato, mi sembra, a 35-36 alla Schiatlon. Anche là non eravamo, dal trentesimo non eravamo distanti, però dai primi c'è ancora molto da lavorare per avvicinarsi. Era 50, le pile hanno durato 42 chilometri, però se la gara è di 50, devono durare 50 prossimamente. Però anche là, per me è andata bene, essendo anche una 50, la mia prima 50. Cioè, era la tua prima 50? No, prima 50 è a livello mondiale. A livello italiano ne facciamo una ogni anno, più o meno. Certo, non intendevo, certo. A livello irridato, ovvio, mi hai detto che era il tuo primo contatto del mondo, quindi ok. Ero presente, ho vissuto quell'emozione al fianco dei tuoi genitori. Sì, le pile hanno durato per tre quarti, c'è da dire che la neve poi è cambiata nel giro di poco. Era una giornata abbastanza calda, a un certo punto la neve è diventata veramente lenta. E' vero, è così per tutti, però magari per un neofita. Ma no, no, neofita, però c'è da lavorare, da allenarsi, da provare a migliorare. Poi magari c'è chi continua a migliorare, c'è chi prima o poi arrivi alla cima, diciamo, del grattacielo. Però, diciamo che per me è stato un grande stimolo anche per vedere come sono rispetto a gente che vincere le cose del mondo, per capire su cosa si può lavorare ancora meglio, per migliorarsi, sperando di riuscirci. E che cosa pensi manchi a te rispetto a norvegesi, russi, finlandesi? Un po' sull'allenamento abbiamo anche lavorato quest'anno con Tuglio. A me manca magari ogni tanto un po' di fisico perché sono abbastanza cagionevole di salute. E però penso che molto serve anche sentire dentro di sé la voglia di far fatica e di farne sempre di più durante l'estate anche per poi, diciamo... Certo, fare il salto di qualità. O l'inverno sicuramente esce l'allenamento estivo. Qual è il tuo format preferito? Ma io sono più distance, sulle medie e lunghe distanze. 15 chilometri, 30 chilometri. Ma l'anno scorso quasi meglio a skating, però anche classico non è male. Basta che non sia una sprint perché non è che non mi diventa tanto bene. Beh insomma, sprinter un po' si nasce, c'è da dire. Sì. Da poi c'è Clebo che fa, fa, è sia sprinter che distance, però insomma di fenomeni non ce ne sono tantissimi che vincono sia una sprint che una gara d'instance e poi una 50 chilometri, anche se insomma tempo per coltivare hobby, presumo non ce ne siano molti perché ti alleni veramente tutto il giorno e tutti i giorni. Ne hai però qualcuno? Ma a me piace molto andare a fotografare. Una volta andavo anche a pescare, poi comprando il cane un po' l'ho lasciato perdere perché tra allenamenti e poi ogni tanto prendo la macchina fotografica e il cane, allora non vado più a pescare. Però a me piace, ho visto negli ultimi anni anche, io dico trafficare perché con il legno, visto che negli ultimi anni ho costruito casa, ho provato chiedendo anche a un mio amico che è falegname e al mio falegname, cioè mio, il falegname che ha fatto casa mia la cucina e il bagno, chiedendo aiuto a loro, ogni tanto nel tempo libero mi sono costruito qualche armada, una scarpiera, un appendiaviti anche per risparmiare qualcosa e riuscire anche a rendere abitabile la casa intanto. Beh, insomma, è un bel hobby e comunque molto spesso tra di voi fondisti vi sento parlare di guadagnare per costruire la casa e tante volte siete voi stessi in prima linea a cimentarvi, i falegname appunto, oppure i carpintieri. Minimamente, quello che si può è una casa sudata, insomma, guadagnata. Però il resto la maggior parte l'hanno fatto, chi lo sa fare di lavoro veramente, è un mestiere. Stefano, hai un eroe, un idolo sportivo? No, io non penso. Simpatie, però idoli non penso di averne. Magari non per forza del mondo del sci. Io sto pensando, cioè, ammiro molto un Kilian Jornet, ammiro molto Peter Nortug, ammiro molto anche il neo record del mondo sulla maratona, Elliot Kipchoge. E a me piace molto guardare questi talenti che allenandosi raggiungono degli obiettivi inimmaginabili, magari inizialmente. Poi, come è successo anche durante il record della maratona, più passavo a chilometri, più vedevi che questa cosa poteva essere reale. Siamo in conclusione. Magari, non lo so, hai voglia di ringraziare qualcuno? Sì, ringrazio la mia fidanzata che mi aspetta sempre a casa quando ando via svariati giorni. Ecco, ti faccio scusa una domanda a tal proposito. Quanti giorni all'anno mancate da casa, linea di massima? L'inverno seguiamo molto spesso. Sei a casa lunedì, martedì, mercoledì, magari il giovedì parti. Poi sei a casa l'aprile, il maggio, sei un po' più tranquillo. A fine maggio iniziano i raduni che possono essere settimanali o magari a blocchi di dieci giorni raduno, otto, nove giorni a casa, dieci giorni raduno. Insomma, comunque 200 giorni fuori casa sicuramente. Sì, può essere. Un 50%. Quindi un ringraziamento alla fidanzata che si chiama, scusa, Cereste. Direi che se la merita proprio. Sì, e i miei genitori che anche mi hanno aiutato molto anche nel continuare la mia... nel condividere la mia scelta di praticare sport. E principalmente anche ringrazio il Centro Sportivo dei Carabinieri che sempre ci aiuta, ci sostiene. e anche il mio allenatore, Tullio Grandelis, lo Schimena Aldo Fauner, che durante l'estate ci seguono e ci portano all'inverno nelle migliori condizioni per esprimere il nostro meglio a tutti quanti. Siamo in conclusione. Grazie davvero Stefano, bocca al lupo. Grazie a te Crepi e buon lavoro. Grazie. È tutto per questa sera. Grazie per la cortesa attenzione. Vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.